Se volete supportarmi su Fortnite, basterà andare nell'Item Shop, cliccare nel rettangolino in basso a destra e andare ad inserire il mio nome, ovvero Kratomis. Accettare e il gioco sarà fatto. Non appena avete inserito il codice, lo vedete scritto qui in alto a destra. Ringrazio tutti coloro che decidono di supportarmi. Ah ragazzoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram. Fidatevi, non ve ne pentirete. Link in descrizione. Bacca, 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 bacca. Non posso. Ti è tosciuto? Ti è morto io. Ho messo un anizio. Eh. Non avevo le mie ame. Stavo andando a prendere il pompa e ho riuscito a rubarmelo. Non stavo urlando perché stavo scappando da un draghetto. Tu senti qua cosa ci sta, vero? Sì, sento, ma non so quanti sono. Troppi. Devo fare una cosa. Devo farlo, però. Headshot. Ma pure lui l'ha fatto. No, a me l'ho messato. Sì, ma lui l'ha messato. Mi fa' mero di notte, capo. Torna con me. Nennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennrr Quella a terra, martire. Chella almeno quella a terra. sono venute due ha 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 strumento del merda oh my god no 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 why do you say this di mo lascia il pompa sicuro te la vai a prendere tu what the fuck man why do you fuck this ah ah what the fuck me scoppiato no i don't know I'm gonna be going I don't know no no I'm going to help my God My God You can't stop that . Wait I'm going to wait to go to the dai ancora più dai ma che fallo ma sceso fuori scelta la finestra a un hp noi ma da vita questo non lo so ho tutto quanti mazze c'ha ma che fa un stasceppio di minghia il pazzatino è bene in qualche modo lo so che non posso ed è normale sentite questa cosa? ora obiettivamente parlando è normale? ecco no ma che fai che strada c'è non è griscio bella bella no fuori i punti li sto portando a casa però no? è un caffè è un caffè è un caffè da un caffè sono andato a lo santa fa 118 stiamo facendo 18 aspetta oh my god era da sud era da sud allora tua madre se ti ha fatto al mondo con un problema che sarebbe quello che non sai mirare non è colpa mia capisci? infatti ti ha preso no non mi ha preso non mi ha preso in realtà è tutto in allusione ottica capisci? chi è il prossimo che vuole morire? chi è? il piccione di mamma oh my god è sotto di te che stava buildando questo va sopra questo va sopra shit va sopra è 18 di pistola o nulla non vale oh c'è che vai giù no a Marti va lì giù ora le puoi ah è io non lo farei boom boom rompito di pistola e dai il colpo di pompa non se lo aspetterà mai ma puoi rompere con la pistola almeno quando è a metà lei è grande by the way Marti non conta quali periodi sto giocando creativa rich by the way non potrà fare ma quanto sto scopando questa sera? wait a second cioè mamma mia tutti proprio oh my god Marti ma sei tossica sti cazzi va bene? posso essere tossico ho bevuto il caffè devo essere tossico ok? oh my god ma povero dai stava un attimo riflettendo guarda vedi sta vedi la cassa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti rifitta col barretti dopo ritaricalo pure se scarico tipo tu la senti la cassa? ma perché devo riftare? non mi viene a prendere la palla scusami riesco a che mi laserano cioè potrei direttamente buttare i rifti ma non mi pare che non mi serve a niente allora se lo togli ti rifti che ti tieni rifti? si no benetri ormai le trappole sono infattibili da mettere va bene va bene va bene questo sopra di te comunque è solo e l'avevi messo tipo anzi l'ansera ha fatto il massimo di scuoli io ho una botta che so si integrava cercando la kill per la vita è per il boom oh che risultato l'anserolo l'anserolo il hijo de puta siete in sei due in solo e due team da due lì c'è qualcuno però da capire se quello lì è solo o no? no aspetta non ti ha dato la troppe 3 siete quattro in solo no ma infatti ma infatti non voglio fare niente non voglio fare cazzata siete quattro in solo e un team da due devo capire chi è quello quanti sono lì ti preoccupano quelle lì di fronte ok aspettate metti una scuola metti una scuola oh oh ce l'hai di fronte oh killala no vabbè all'aghi non prenderò la kill ma non si deve neanche curare assolutamente assolutamente i trinfitz i plus non sei in serio non puoi no scende martin scende occhio chi la cosa è solo quello di solo è il cromo in solo era dovuto e c'è nessuno ti faccio una serva le mazze questo è in solo siete persone in solo non è molto male non è molto male quanto danno era scusa non è molto male